Allora Francesco, a me piace sempre partire dalle persone prima che da quello che fanno e nel tuo caso, ed è quello che poi è la cosa più bella, quello che succede nelle persone, come dire, di cui a me piace circondarmi, è quando c'è una grande coerenza tra quello che sono la loro vita, la loro storia e quello che fanno nella vita di professione, di mestiere. In questo senso tu hai una storia personale interessante da raccontare, che riguarda la tua salute e come l'alimentazione, e poi nello specifico la cura dell'intestino ti ha aiutato a risolvere questi problemi. Vuoi condividere con noi qualcosa di questa tua storia? Sì, sì, perché è assolutamente importante, perché tutto quello che faccio oggi parte da me, parte da me, come giustamente dicevi te, come persona. Infatti noi ci dobbiamo occupare prima della nostra persona, poi tutto quello che vogliamo fare verrà più semplice farlo, no? Ok? Anche l'attività sportiva, l'attività fisica, se io non sto bene non riuscirò a ottenere dei risultati. Per cui io dico sempre, vi spiego velocemente la mia storia, come sono arrivato al metodo B-Core. Nel 2003 mi viene diagnosticato un morbo di Crohn, che è una malattia cronica intestinale, una delle tante malattie autoimmuni. Oggi ce ne sono, pensate, oltre 170, tra virgolette, disponibili per noi. Per cui le malattie autoimmuni sono veramente debilitanti, sono veramente, nella loro forma acuta, veramente impegnative da gestire, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista mentale. Infatti col metodo B-Core noi andremo ad agire, sia dal punto di vista fisico che mentale. Nel 2003, quindi, il morbo di Crohn non mi ha dato mai nessuna sintomatologia particolare, fortunatamente, solo che il corpo a un certo punto deve dare delle risposte, ti deve comunicare qualcosa. Per cui negli anni, che cosa è successo? Che nel 2009-2010, adesso non ricordo neanche più perché ho rimosso, però circa una decina di anni fa, compare una seconda malattia autoimmune molto più invalidante. È una malattia rara che colpisce circa una persona ogni 300 malati di morbo di Crohn. Quindi è una conseguenza del morbo di Crohn. È piuttosto invalidante, mi ha lasciato invalido circa un anno e mezzo, ma come sono fatto io, che ho l'attitudine di cercare soluzioni, di venire fuori da quello che mi capita nella vita, di migliorarmi. E sono sempre stato dell'idea che una malattia, se riusciamo a gestirla, ci comunica la strada, la direzione che dobbiamo prendere. Quindi io in quest'anno e mezzo di fermo ho incominciato a fare ricerche, su ricerche, su ricerche. Ho detto che è impossibile che io non possa venirne fuori, è impossibile non trovare una soluzione, perché sono convinto che c'è sempre una soluzione. E per questo, ricercando, ricercando, in internet sono capitato sul sito di un certo professor, Paolo Mainardi, che è un neurochimico di Genova, che sono 30 anni che studia il rapporto che c'è sull'asse intestino-cervello. Secondo Mainardi e secondo anche un certo tizio circa duemila anni fa, un certo Ippocrate, tutte le malattie partono dall'intestino, perché l'intestino noi lo dobbiamo considerare un po' come se fosse la nostra centrale tecnica di comando. Se il nostro intestino non è in equilibrio, allora sarà più facile ammalarsi di qualsiasi tipo di malattia. Quindi, con i consigli che mi ha dato il professor Mainardi, del quale oggi sono grandi amico e sono uno dei più sostretti collaboratori, proprio per i risultati eclatanti che ho ottenuto, è nata questa passione da parte mia, che fino a dieci anni fa non avevo per la ricerca, quindi partecipo anche alle numerose ricerche che Mainardi ancora oggi fa, mi ha dato la possibilità di seguire le persone dal punto di vista intestinale, ma vi ricordo quando dico intestinale parlo di tutto, ma mi ha permesso anche di mettere a punto un mio metodo sull'esperienza decennale su questo argomento. Però voglio andare un po' per gradi, vi voglio raccontare che cosa significa avere un intestino non in salute. Pensate che il 70% delle persone va dal medico per problematiche gastrointestinali, quindi le più comuni possono essere la classica diarrea, stichezza, gonfiore, fermentazione, aria, problemi digestivi, eccetera. E quindi che cosa succede? Il medico ti dà la cura che è più idonea in quel momento, i classici fermenti lattici per sistemarti un attimino, ma poi come penso nella maggior parte dei casi, magari anche a qualcuno di voi è capitato, faccio questa cura però ritorno poi dopo un tote di tempo, dopo un certo periodo ancora appunto a capo. Questo perché la medicina ufficiale, che io non disprezzo assolutamente perché anche grazie alla medicina ufficiale io sono venuto fuori da quel periodo buio della mia vita, la medicina ufficiale però tendenzialmente si occupa del sintomo. Noi invece con questo tipo di approccio, con questo metodo, andiamo a lavorare alla causa del problema. Ok? Lavorare alla causa del problema vuol dire andare a risolvere tutte quelle problematiche di terreno che mi causano i sintomi che abbiamo nominato prima. Nell'intestino noi abbiamo batteri buoni e batteri cattivi, questi devono stare in perfetto equilibrio, quindi ci devono essere un 80% di flora batterica buona e un 20% di flora batterica cattiva. Ma nell'intestino non troviamo solo batteri buoni e batteri cattivi, l'intestino oggi lo possiamo definire come un grande complesso di abitanti. Ok? Perché nell'intestino noi abbiamo sì batteri, ma abbiamo anche virus, abbiamo funghi e tutto questo sistema che oggi viene definito microbiota deve vivere in perfetto equilibrio. Ossia ci deve essere un giusto quantitativo di batteri buoni per far sì che questi possano essere evidenti, possano essere importanti per curare la nostra salute e per riequilibrare il nostro sistema immunitario e riconoscere tutti quei batteri cattivi che in caso dovessero alzare la testa, che in caso si dovessero risvegliare per una serie X di motivi, il mio sistema immunitario e i miei batteri buoni riescono a contrastarlo. Il problema è quando questo disequilibrio, quando si attiva un disequilibrio, ossia che comincia a aumentare la flora batterica cattiva e qui compaiono tutti quei sintomi di cui abbiamo parlato prima. Ecco, Francesco, scusa se ti interrompo un attimo, perché mi piacerebbe fare una domanda molto specifica. Quanto è probabile che chi come me e come molti nostri amici che ci seguono fa uno sport di endurance come il ciclismo, quindi sport di fatica, con un certo tipo di sforzo fisico, quanto è probabile, dico, che il nostro microbiota intestinale non sia nelle condizioni ottimali? Questo influisce, vuol dire lo sport influisce in questo? Sì, allora, lo sport influisce, assolutamente sì. Allora, lo sport è salute, questo si sa, però bisogna farlo con cognizione di causa. Quello che capita molto spesso è che si cerca, soprattutto per le persone che fanno sport in maniera importante a livello agonistico o quasi a livello, o semiprofessionistico, sono quelli che generalmente hanno le problematiche intestinali più importanti e quelle più comuni sono appunto gonfiore, fermentazione, pesantezza, eccetera. Questo perché tanti non tengono in considerazione che fare anche delle azioni esasperate nella nostra vita, cioè dare più di quello che possiamo, questo provoca uno stress, provoca uno stress a livello generale, provoca uno stress anche a livello intestinale, perché è un po' come se io andassi a lavorare in riserva. Quindi cosa succede quando io lavoro in riserva facendo sport? Vuol dire che io produco più tossine, produco più infiammazione e quindi sarò più soggetto a infortuni, avrò dei tempi di recupero molto più lunghi, ma soprattutto non farò nient'altro che aumentare le problematiche intestinali che poi nel tempo si possono cronicizzare. Molto bene. Per cui c'è un modo pratico, concreto per noi per capire, al di là dei sintomi, il gonfiore e quant'altro? Come faccio a capire se il mio intestino è in buone condizioni oppure se ho bisogno di qualcosa per sistemarlo, diciamo? Ma allora, guarda, c'è un sorrido perché tanti mi definiscono anche caccologo. Sorrido anch'io perché so già dove ti ho fatto la domanda. Sei già dove voglio andare a pararti. Ok. Infatti un test gratuito che possiamo fare comodamente a casa tutte le mattine o quando, durante la giornata, è proprio imparare a vedere le nostre feci, a capire come sono le nostre feci. Questo ci dice tanto di quello che c'è dentro perché, anzi, vi invito, se volete, a scaricare, basta che digitate su Google Bristol Stool, scritto con due O, in mezzo, test, troverete una tabella con diverse tipologie di feci. Per stare bene, per stare in salute, noi dobbiamo stare tra la numero 4 e la numero 5. Le feci... Lo scrivo nei commenti. Ok, grazie. Le feci ci dicono tanto, ci dicono tanto attraverso il loro aspetto, se sono molli, se sono dure, se sono a capretta, dall'odore, perché possono avere un odore, ad esempio, tipo metano, vuol dire che c'è una disbiosi putrefattiva, oppure possono avere un odore più leggero, si tratta di una disbiosi fermentativa, generalmente causata dal consumo di troppi carboidrati farinacei come pane, pasta, pizza, mentre la disbiosi putrefattiva, che non vi ho detto, è data dal consumo excessivo di prodotti animali. è importante anche valutare e controllare che non ci sia del muco nelle feci, che quella sostanza giallogno, la filamentosa, molto evidente, che si trova anche attaccata, generalmente rimane attaccata alla carta igienica. Il muco, che non è da confondere con il muco bronchiale, sono due cose completamente diverse, il muco intestinale è il nutrimento buono dei batteri buoni che costituiscono il mio sistema immunitario e lo mangiano solo loro per nutrirsi, quindi se io lo trovo nelle feci, vuol dire che il mio sistema immunitario comincia a essere abbastanza debilitato e quindi devo correre assolutamente ai ripari. Pensate che nelle malattie autoimmuni, velocemente questo, c'è un sistema immunitario talmente tanto alterato che le persone hanno addirittura solo scariche di muco. Caspita. Ora, anche per, come dire, sviare il discorso da questo particolare, visto che è ora di pranzo, ma comunque, a parte gli scherzi, interessantissimo questa cosa e soprattutto molto alla portata di tutti, capire il proprio stato, almeno al primo impatto lo si capisce, ma poi le sensazioni poi la fanno da padrone, no? Assolutamente. Hai toccato più volte un argomento molto molto importante e specialmente e soprattutto in questo periodo, è quello della relazione tra salute dell'intestino e sistema immunitario. Sì. Ritieni che, e so già che sfondo una porta aperta, ma ritieni che si parli a sufficienza di questi temi al giorno d'oggi, vista anche l'emergenza in cui siamo immersi purtroppo, e credi che invece se ci fosse molta più attenzione rispetto a questo tema si potrebbe affrontare anche con più serenità, è una parola, però affrontare con meglio dal punto di vista proprio della reazione fisica a qualsiasi voglia tipo di virus o di malattia. Sì, sì, sì. Non nomino il virus in questione perché c'è una censura incredibile sui vari social in questo periodo. Ma comunque il riscorso è generale. Il riscorso è generale, quindi assolutamente sì. Allora, l'importanza, purtroppo, come dicevi anche tu, se ne parla davvero poco di sistema immunitario. Si cerca sempre, si parla sempre poco di rinforzo del sistema immunitario e di quanto sia importante. Infatti, nell'ultimo anno siamo stati bombardati da informazioni legate all'attesa di un probabile rimedio farmacologico che potesse risolvere tutti i problemi. In realtà, nessuno o pochi hanno parlato di quanto sia importante avere forte un sistema immunitario. Un sistema immunitario si forma prevalentemente a livello intestinale. La parte più importante del sistema immunitario si forma a livello intestinale e quindi va da sé che se io mi occupo di questo importante sistema allora farò una grande prevenzione su qualsiasi tipo di malattia, virus che possa capitare, che mi possa, che possa essere presente nell'arco della nostra vita. Guarda, io statisticamente parlando tutte le persone che seguo difficilmente si ammalano di influenza anche di un semplice raffreddore e se si ammalano di influenza o di un semplice raffreddore è molto veloce la guarigione da questi, il miglioramento di questi sintomi. Cioè, se prima con un intestino debilitato magari mi trascinavo un'influenza per dieci giorni con un intestino forte magari in due o tre giorni riesco a farmela fuori. Per cui bisogna puntare assolutamente sul sistema immunitario. Bisogna puntare per stare bene con noi stessi ma se guardiamo anche l'altro aspetto peseremo molto meno anche sul sistema sanitario nazionale che non è cosa da poco. Per cui io vi invito veramente di cuore a prendervi cura del vostro intestino perché se vi prendete cura del vostro intestino vi prendete cura anche del vostro sistema immunitario che è il vostro esercito della salvezza. Possiamo considerare il nostro sistema immunitario come se fosse l'ONU l'Organizzazione delle Nazioni Unite che interviene in caso di guerra per cercare di portare la pace. Ecco questa è una metafora piuttosto calzante. Molto bella. Allora mi aggancio proprio a questa metafora del riportare la pace. Ok quindi allo stato attuale diciamo che io sono una persona che ha una dispiose intestinale di qualche tipo magari non ho mai curato particolarmente l'alimentazione ho una vita frenetica perché anche quella tu mi segni incide lo stress e quant'altro faccio uno sport intenso come il ciclismo ok la domanda è questa è veramente possibile tramite l'alimentazione riparare e ripristinare il nostro intestino come funziona qual è diciamo il stilone su cui si basa poi il metodo che tu hai messo appunto in questi anni di studio ricerca e pratica sì assolutamente sì l'intestino si può rinforzare si può migliorare tant'è cosa che non ho finito di dire prima perché poi come dici tu l'argomento è talmente ampio che se comincia ad aprire tutti i file poi c'è da dire che io personalmente non non faccio più uso di nessun tipo di farmaci sia per quanto riguarda la mia situazione autoimmune sia per quanto riguarda il mal di testa o il mal di schiena io non so più che cos'è un farmaco perché attraverso l'intestino noi non è che andiamo a gestire solo l'infiammazione a livello intestinale attraverso l'intestino noi andiamo a gestire l'infiammazione sistemica di tutto il corpo ecco perché tornando a fare l'esempio sugli sportivi hanno dei tempi di recupero migliori e possono andare incontro meno a infortuni per cui con l'esperienza come vi dicevo ho messo a punto il metodo B-Core il metodo B-Core per rispondere alla domanda che mi ha fatto Davide si basa principalmente su tre aspetti fondamentali innanzitutto possiamo interpretare possiamo considerare il metodo B-Core come se fosse un nuovo svezzamento ovviamente non lo faremo con il latte ma lo faremo con i cibi perché è un nuovo svezzamento perché se io voglio ristrutturare la mia stanza allora prima la devo svuotare la devo rimuovere i pavimenti devo raschiare le pareti da quello che c'è da raschiare insomma scusate ma non sono molto pratico di opere murarie però possiamo considerare il nostro intestino come una grande stanza da ristrutturare quindi perché nuovo svezzamento perché all'inizio andrò a togliere i cibi complessi cibi quelli complessi quelli che contengono antinutrienti e quelli più comuni e conosciuti sono prodotti che contengono glutine latticini amidi eccetera per poi arrivare a reinserirli tutti nuovamente quindi in questa fase in questa prima fase che dura all'incirca sei settimane dove toglieremo gli alimenti più più complessi avremo modo di sfiammare notevolmente l'intestino e di ricostruirlo ok perché l'intestino meno carico lavora più lavora con alimenti a lui amici più ci darà la possibilità di essere ricostruito per cui nuovo svezzamento alimentazione è una fase c'è una fase di depurazione quando si cambia alimentazione è sempre importante fare una sorta di pulizia generale ma soprattutto in questo caso è importante approfittare di aver svuotato un po' la stanza per portare via le macerie ok per macerie intendo tossine che noi accumuliamo durante la nostra giornata attraverso cattiva alimentazione cattivo stile di vita stress anche a livello sportivo come abbiamo abbiamo detto prima quindi alimentazione nuovo svezzamento depurazione e ovviamente c'è anche un'integrazione un'integrazione con un prodotto con un alimento perché io lo considero alimento a tutti gli effetti perché il latte materno ad esempio è molto ricco di questo alimento ed è l'alfa-lattoalbumina perché l'alfa-lattoalbumina semplicemente perché tornando al professor Mainardi lui sono 30 anni che studia gli effetti di questa sieroproteina sul nostro intestino l'alfa-lattoalbumina è importante perché la dobbiamo considerare un po' come un cemento un isolante un rinforzo intestinale che mi va a rinforzare le pareti intestinali e se io rinforzo le pareti intestinali avrò più turgidità dei villi intestinali avrò un sistema immunitario efficiente avrò una produzione di muco efficiente e soprattutto andrò riuscirò a diminuire l'infiammazione e ad assorbire al meglio tutti i nutrienti che io introduco con la mia alimentazione quindi sono tre fasi essenzialmente questo è molto importante sottolineare perché spesso per noi ciclisti quando si parla di integrazione integratori nella nostra testa scatta l'idea della barretta del gel invece qui è molto importante capire cosa si intende per integratore e l'importanza di questo integratore di questa lato alfarmumina che a parte il nome difficilmente pronunciabile meriterebbe da sola qualche ora di discussione perché è veramente un portento io la chiamo la proteina di madre natura in realtà è la proteina che noi è quella con cui noi nasciamo quella che si trova all'interno del colostro materno nella prima settimana di allattamento abbiamo il colostro il colostro poi dopo sette giorni sparisce mentre l'alfalatumina continua a essere presente nel latte materno per quello più veniamo allattati e meglio è perché più rinforziamo il nostro intestino assolutamente per andare più invece nel pratico per quanto riguarda proprio l'alimentazione quindi il il protocollo richiede diciamo come dicevi te tre fasi no e in questa fase comunque c'è da seguire una sorta di protocollo anzi un regime alimentare anche se la parola regime non mi piace no un diverso stile di vita lo chiamerei io rispetto a quello che facciamo prima esatto è proprio uno stile di vita che si abbraccia io parlo per perché l'ho fatto in prima persona lo seguo in prima persona ed è diventato effettivamente uno stile di vita non è una dieta non è prendo delle cose le tolgo le elimino non mangio più il pane non mangio più la pasta misuro le calorie giusto Francesco non si contano le calorie e la domanda è richiede difficoltà nella preparazione nel reperire i cibi sono cibi molto costosi riesco a metterlo in pratica anche con una vita frenetica quale che ho faccio questa domanda perché in un recente sondaggio che ho fatto con gli amici di ciclismo passione alla domanda qual è il principale problema che non ti permette di seguire uno stile alimentare salutare era proprio questo cioè la difficoltà di integrarlo in una vita in cui magari si mangia fuori pausa pranzo per il lavoro oppure c'è la pausa pranzo veloce in famiglia per cui devi coniugare anche le necessità della moglie del figlio comunque compagno compagno e quant'altro la domanda è questa quanto è nella pratica fattibile quanto invece richiede impegno e restrizioni beh allora guarda ti posso rispondere così tutto ciò che è nuovo all'inizio non è semplice quindi tutto si può imparare come abbiamo imparato ad andare in macchina come abbiamo imparato andare in bici come abbiamo imparato a correre come abbiamo imparato a fare qualsiasi cosa all'inizio non era semplice però qui c'è in gioco un premio molto importante che è la nostra salute quindi perché io faccio tanti sacrifici per tante cose giustamente ma non riesco a rendere sacro perché sacrificio per me è una bella parola significa proprio rendere sacro quindi perché io non riesco a rendere sacro il mio corpo nel quale io ci devo abitare per tutta la vita e se ci vivo il più a lungo possibile bene meglio è sia per me ma per tutti anche per le persone che sono intorno a me quindi come tutte le cose nuove anche questo percorso qui all'inizio non è semplice perché devo fare un cambiamento ma è un cambiamento stimolante perché i risultati e tu Davide me lo puoi confermare cioè ce li hai già dai primi giorni cioè ti senti una persona diversa cominci a essere una persona nuova già dai primi giorni con più energia più vitalità dormi meglio eccetera ovvio io adesso sto generalizzando poi nello specifico ogni persona ha le sue problematiche possono esserci delle malattie importanti dei sintomi che ci portiamo dietro da tanto tempo nella vita per cui magari richiede un po' più di tempo però tutto si può migliorare tutto si può assolutamente migliorare per cui continuando a rispondere alla tua domanda in realtà all'inizio è molto semplice perché ci sono pochi alimenti bisogna semplicemente imparare a combinarli insieme nulla di che ci sono degli alimenti particolari da mangiare sì forse un paio ok che si possono reperire tranquillamente anche online bisogna essere costanti nel prendere gli integratori sì perché comunque questo è un percorso che nelle prime sei settimane mi permette un nuovo svezzamento e una nuova ripartenza però poi per riparare un intestino ci vogliono almeno sei mesi statisticamente parlando a detta del professor Mainardi ma perché fermarsi sei mesi io sono dieci anni che mi occupo del mio intestino in modo costante ok infatti come si diceva è uno stile di vita poi quando entri in questa ottica cambia cambia anche proprio il tuo approccio e parlo da utilizzatore cambia il tuo approccio rispetto a certi cibi alla domanda ma posso gestire gli sgarri che spesso viene fatto cioè posso fare degli sgarri in realtà si arriva ad un punto che non li fai più certi tipi di sgarri perché mangiare quel tipo di alimento il tuo corpo stesso ti dice questa cosa ti fa male e non la mangi più volentieri bravo questa è una domanda che mi piace molto perché questo lo possiamo definire proprio come se fosse un percorso di consapevolezza corporea perché noi quando stiamo male che abbiamo qualche sintomo all'inizio prima di iniziare il percorso che io suggerisco abbiamo una serie X di sintomi ma non sappiamo qual è la causa qual è quell'alimento che può scaturire determinati sintomi perché mangio di tutto un po' dopo aver fatto un percorso di questo tipo dove abbiamo fatto una pulizia rinforzato l'intestino mettendolo in condizioni di richiedere quello che a lui effettivamente serve potrebbe essere che mangiandomi che ne so dico delle cose a caso mangiando un broccolo pur un alimento salutare posso avere dei fastidi che pensavo di non avere mai avuto quindi non vuol dire che io quel broccolo non riesco non potrò più mangiarlo perché vi ricordo che il problema non è il cibo il problema è un intestino debole che ha bisogno di essere rinforzato se io rinforzo l'intestino posso arrivare a mangiare qualsiasi tipo di alimento fare qualsiasi tipo di sgarro senza avere nessun tipo di problema quindi se io mangio il broccolo e mi dà fastidio allora magari lo sospendo un attimino e provo a reinserirlo dopo un 15 20 giorni per dare il tempo all'intestino di rinforzarsi per ricevere quell'alimento che prima mi dava fastidio quindi il bello di questo percorso ed è per quello che è anche stimolante che le persone succe quando vengono da me per la prima per la prima visita ad esempio poi dopo una non vedono l'ora di venire la prossima volta per dire dai che cosa inseriamo adesso capito si crea un entusiasmo sul benessere che io ho ho ricevuto nella nella prima fase di questo di questo percorso poi comunque l'altro aspetto importante che avevi toccato nella domanda precedente è la difficoltà del gestire questa cosa in famiglia ok perché se Francesco e Davide vogliono seguire questo stile di vita però hanno due figli tre mogli eccetera eccetera potrebbe essere complicato anche no mi viene da dire perché comunque questo è uno stile di vita che possono seguire tutti in famiglia veramente cioè fate davvero un grosso regalo e create una grossa ipoteca sulla vostra salute futura e questo è l'importante però molto spesso capita di sentire non so il Francesco della situazione che arriva a casa sono stato da Davide mi ha consigliato questo tipo di alimentazione ah ti arrangi te la fai tu te la mangi tu io non voglio sapere niente e continuo a mangiare come ho sempre mangiato va bene cominciamo facciamo questo piccolo sacrificio rendere sacro vi ricordo e cominciamo a farlo noi quando come molto spesso succede le persone vedono che cominciamo a stare bene che miglioriamo di energia che miglioriamo in salute allora lì scatta qualcosa e possono dire ma tutto sommato quasi quasi lo proverai anch'io dice la moglie ok o il marito eh sì e così gli amici gli amici i compagni di pedalate ma cavolo come stai bene ma sei asciugato perché poi un altro aspetto visto che ora andiamo un po' magari più entriamo più nello specifico di noi sportivi di noi ciclisti dopo ci dirai Francesco te la tengo per dopo questa domanda perché tutto questo porta a migliorare le nostre prestazioni quindi l'energia vitale tutto quanto ma anche c'è per chi ne avesse bisogno ma anche no c'è come effetto facevole effetto secondario una perdita di di peso dovuta alla perdita di scorie io ricordo bene che dopo aver fatto te l'ho detto dopo aver fatto per la prima volta il percorso metodo big core ho fatto la visita medico sportiva avevo perso qualcosa come 3 chili ora io a 60 chili non avevo bisogno sempre stato magro magrissimo non avevo certo bisogno di perdere 3 chili e ho detto ma Francesco ho perso 3 chili però sto benissimo anzi 3 chili in meno in salita li sento sto molto meglio e tu mi hai detto ma hai perso delle scorie giusto dico bene? sì hai perso tossine hai perso uno zagninetto di cose che non erano utili e questo è fondamentale per noi amatori specialmente dopo una certa età in cui si va a ricercare la ruota che pesa 5 grammi di meno perché pesa un grammo di meno avere un paio di chili in meno di tossine scaricate vi assicuro che fa la differenza ma questo come diciamo sempre è una logica normale bellissima conseguenza non è il punto di partenza non è una dieta per perdere peso è una bellissima conseguenza così come una bellissima conseguenza per noi che andiamo in bicicletta facciamo comunque degli sport avere Francesco delle delle energie ritrovate tempi di recupero migliore e tu hai molta esperienza con ciclisti perché ne hai seguiti personalmente molti alcuni anche di un certo livello e poi i tantissimi ciclisti ormai sono centinaia che lo seguono il metodo di course cycling quello che proponiamo con ciclismo passione penso siano più o meno 400 adesso le persone quindi un bel gruppo e con soddisfazione molto elevata poi insomma nella pagina di presentazione che vi metterò il link che ci sono un bel po' di queste testimonianze quindi quali sono i benefici per noi ciclisti diretti e perché avvengono quanto tempo abbiamo ancora un'ora e mezza facciamo un succo dai dici le due tre cose facciamo un estratto un succo concentrato i benefici allora molto importante innanzitutto quello che hai detto quando io metto in condizioni il corpo il mio intestino di funzionare bene di assorbire bene il mio corpo trattiene quello che deve trattenere ed elimina quello che deve eliminare il che si traduce in un perfetto equilibrio di massa corporea uno due quali sono i vantaggi per tutti e per i ciclisti che con un'alimentazione del genere che non è assolutamente iperproteica bandire assolutamente tutto ciò che è iper le diete estreme ma questa è un'alimentazione equilibrata mi permette di mettere su massa magra ok quindi il binomio elimino tossine metto su massa magra per uno sportivo uguale potenza e anche lucidità mentale perché una cosa importante che non abbiamo detto è che la maggior parte delle tossine si accumulano a livello cerebrale perché il nostro cervello è fatto di massa grassa e le tossine prevalentemente si vanno a installare dove c'è grasso il grasso corporeo la ciccia non è nient'altro che un accumulo di tossine ok infatti anche le persone apro una piccola parentesi che vengono da me che vogliono perdere peso che seguono il metodo e vogliono perdere peso io dico con il sorriso sulle labbra sia che devono perdere 5 o 40 kg a me del tuo peso corporeo non me ne frega niente perché il peso corporeo non è nient'altro che una conseguenza di qualcosa che non va alla base quindi io mi occupo del sintomo della base e poi sono certo come dicevi tu che il peso scende ok quindi va da sé che per uno sportivo sistemando l'intestino e andando a migliorare la lucidità mentale non può non può far altro che migliorare la sua prestazione assolutamente come dicevi te stiamo lì a guardare i 5 grammi della ruota sto a vedere se faccio 3 secondi in meno quella quel percorso che di solito facevo prima però no nel senso noi stiamo sempre agendo anche in questo caso stiamo finché non ci occuperemo in poche parole di noi stessi difficilmente riusciremo a migliorare la nostra vita il nostro stile di vita le nostre performance che siano performance sportive lavorative o anche nella vita sociale perfetto ci sono un paio di domande che sono arrivate nella pagina allora te le faccio la prima è Giuseppe che ci chiede per chi ha un percorso di training già in atto devi ridurre il carico nelle prime 6 settimane perché è un percorso di training già in atto deve ridurre il carico no perché è comunque un'alimentazione molto bilanciata quindi assolutamente no io ho seguito anche come diceva Davide ciclisti a livello professionistico ma sempre con 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 queste informazioni che troverete nel metodo magari aggiungendo qualcosa qua e là ma non è neanche necessario assolutamente poi come Davide sa io sono molto disponibile cioè ricevo davvero decine e decine di mail al giorno per cui se avete qualche difficoltà posso aiutarvi a risolvere guarda anche qui Francesco se può servire riporto la mia esperienza da ciclista da amatore io l'ho fatto le prime 6 settimane l'ho fatto proprio nel momento in cui stavo caricando piuttosto perché mi stavo preparando per alcune cose quindi facevo di allenamenti bastanti lunghi e nei primi giorni ci sono c'è un assestamento senti delle sensazioni diverse le senti tanto più quando sei in bici se le senti nella vita normale c'è un assestamento però non è una perda di energia non è senti che il corpo sta cambiando lo senti in bici lo senti di notte è però questione veramente di qualche giorno e poi un po' alla volta gradualmente inizi a percepire che sono sensazioni positive per cui sì per rispondere all'amico non direi di andare a fare la gran fondo della tua vita e aver dopo iniziato da tre giorni a fare questo metro è una cosa che gradualmente porta dei benefici e non però non sconvolge niente ecco questo no dobbiamo mettere in conto che la prima fase di tossinazione può essere che come dicevi tu ci siano tre quattro giorni con magari un po' di malavoglia un po' di stanchezza ma sono semplicemente le tossine che devono essere eliminate sì poi probabilmente dipende anche dello stato di partenza di persone che sono abbastanza soggettivo quello è fondamentale l'altra domanda di Gennaro è può avere senso produrre benefici può avere senso e produrre benefici sensibili cominciare col B-Core ad oltre 70 anni col B-Core puoi cominciare anche a 102 anni perché non è mai troppo tardi per prendersi cura di se stessi anzi cioè forse a una certa età ma no allora forse a una certa età no stavo sbagliando è sempre importante prendersi cura di se stessi pensate che a me adesso è nata la mia fantastica nipotina Matilde ha fatto sette mesi domenica ma la mamma mia sorella che ha sempre seguito il B-Core gli avevano detto che non avrebbe mai avuto latte eccetera eccetera non sa più dove mettere il latte per poter da quanto ne produce e soprattutto mangiando lei bene anche la nipotina sta seguendo il B-Core per cui si può cominciare anche dalla fase pre-natale e neonatale fino ai 100-150 anni di vita assolutamente ciao Matilde saluto la nipotina saluto che so che mi sta guardando bene Francesco vabbè allora Albert chiede dove sei rintracciabile e se il metodo si può fare online allora qui lascio a Davide la parola sì sì assolutamente allora noi per chi è già iscritto la newsletter di ciclismo passione e o di train evolution avrà già ricevuto l'email o magari non l'ha ancora letta vada a vedere perché c'è appunto questa offerta speciale sul metodo B-Core che appunto è diventato anche in formato digitale che è un formato molto semplice da fruire la portata di tutti quindi per chi non può se qualcuno vuole andare a trovare direttamente Francesco Francesco puoi dire dove sei il tuo studio e questo è un percorso poi magari mettiamo anche i riferimenti tu sei a Monza giusto? sì sì io ricevo a Monza provincia ricevo a Monza per cui se siete Monza provincia o avete voglia di muovervi potete farlo con le restrizioni naturali Francesco ha il suo studio assolutamente altrimenti c'è la nostra alternativa la nostra proposta del metodo B-Core diciamo formato digitale che è formato digitale ma al tempo stesso anche molto personale perché oltre a ricevere tutto il metodo completo completo di dispenser ricettario esempi e tutta la scaletta che ti serve passo passo ci sono tutti dei video tutorial in cui Francesco va a spiegare bene le varie fasi come scegliere il cibo come abbinarlo come cucinarlo prepararlo tutto insomma è tutto completo e c'è in più anche una cosa che ha un valore assolutamente enorme che è quello di avere accesso ad un gruppo Facebook chiuso e riservato solamente alla community di chi sta seguendo o ha seguito o segue questa filosofia questa metodologia in cui Francesco è disponibilissimo a rispondere a tutte le vostre domande quindi è veramente come se voi avreste accesso diretto a Francesco per sempre in qualche modo semplicemente accedendo a questa offerta perché poi l'altra cosa importante mi sembra che ci siano anche dei video correlati all'ebook sì sì esatto ci serve tutta una serie di video tutorial in cui Francesco entra più nello specifico e va a fare degli esempi ed è veramente come seguire una sessione di coaching più sessioni di coaching con lui è sempre disponibile per cui l'ho acquistato oggi potete iniziarlo tra un mese due mesi tre mesi ma normalmente lo inizierete subito perché di solito c'è molto entusiasmo iniziare questa cosa ed è una cosa buona l'entusiasmo perché è un processo di trasformazione la trasformazione è positiva ed è sempre una cosa buona se mi permette un altro aspetto positivo della proposta che abbiamo fatto del prodotto digitale l'abbiamo pensata anche per quello che dicevamo prima cioè poterla condividere con i familiari questa è una cosa che anche qui riporto la mia esperienza personale anch'io ho portato a casa questa cosa inizialmente anche mia moglie pur essendo coinvolta perché conosceva Francesco e quant'altro però sì inizio a farlo da solo io vado avanti seguo anche le ragazze perché abbiamo due ragazze e poi alla fine un po' alla volta tutti ah ma che buona questa cosa fammi assaggiare aspetta che sentiamo anche le ragazze dei figli pre o adolescenti che è il periodo peggiore in cui si mangia normalmente più schifezza ora continuano a mangiare anche le schifezze purtroppo però e certamente vedere il papà e la mamma che seguono hanno attenzione verso questa cosa è il migliore degli esempi assolutamente sì assolutamente insomma dobbiamo essere da esempio sì ci proviamo ci proviamo voi ci siete riusciti molto bene devo dire anche piuttosto con facilità ma si sai come sempre il modo migliore è quello non fare le prediche ai ragazzi non vuole fare le lezioni di igiene ma dico soltanto fai vedere cosa devi fare dai l'esempio e forse dopo questo funziona molto di più allora ci sono un altro paio di domande Francesco sì dimmi Giuseppe ancora ci chiede grazie per la risposta un'altra domanda segue un'alimentazione di tipo 8 barra 16 è compatibile il metodo però io non la conosco l'alimentazione 8 barra 16 8 sedicesimi non so se tu la conosci eventualmente se no rispondiamo in un secondo momento sì rispondiamo in un secondo momento perché l'argomento è ampio comunque sì va bene puoi assolutamente integrare il metodo B-Core ok Antonio ci chiede quanta acqua al giorno si deve bere e c'è tutto un capitolo sull'acqua dico bene sì sì c'è un capitolo sull'acqua assolutamente per il 75% noi siamo fatti di acqua quindi va da sé che quando mi chiedono qual è l'alimento che tu metteresti alla base della piramide alimentare io dico l'acqua perché l'acqua attiva tantissimi processi importanti tra cui anche per uno sportivo al di là del dispendio che ha con il sudore di sali minerali ed altre sostanze è utile anche l'acqua è fondamentale anche per fluidificare il sangue perché il nostro sangue è fatto per l'80% di acqua il colore è dato da tutte le altre componenti che ci circolano all'interno infatti io quando vado a fare gli esami del sangue per farti un esempio quando è il giorno che in genere bevo più acqua perché così almeno cerco di ripristinare al meglio tutto quanto poi l'acqua per uno sportivo ma in generale per tutti è importante quant'acqua posso bere al giorno ma io nel senso starei intorno al litro e otto due litri di acqua al giorno minimo a meno che e qui è importante anche sottolineare questo aspetto non ho problematiche renali il mio nefrologo mi ha detto eccetera 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 di fare in questo modo allora bisogna entrare nello specifico ma qui questo metodo lo stiamo divulgando per persone che tutto sommato grosse problematiche non hanno quindi acqua fondamentale acqua bernetanta se sudate tanto in bici o durante l'attività fisica i due litri diventano due litri e mezzo tre al giorno e poi sul 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 metodo nell'ebook è spiegato veramente in modo dettagliato la necessità come la qualità dell'acqua qualità dell'acqua si deve essere un'acqua basso residuo fisso soprattutto all'inizio perché più ha un residuo fisso basso più porta via tossine più leggera l'acqua più porta via tossine bene bene molto bene allora Francesco abbiamo fatto l'una e mezza io direi che anche se siamo partiti con 10 15 minuti di ritardo però insomma direi che abbiamo dato tante informazioni tante indicazioni chiuderei chiuderei con qualche battuta se vuoi nel senso che deve essere chiaro questo agli amici che ci stanno ascoltando amici ciclisti metodo metodo non è una dieta non è un regime alimentare per andare più forte in bici quindi non ha niente a che fare con le mode alimentari che ogni giorno ne viene fuori qualcuna di nuovo io sono tempestato di offerte di questo tipo si basa molto su quella che è la natura umana tant'è vero che i cibi più ecco questa forse è una cosa che abbiamo detto ma non approfondito che una delle cose particolari è che i cibi tanto più sono lo stato naturale meglio è giusto quindi meno vengono processati vuoi dire qualcosa su questo sì sì tutto ciò che è semplice piace al nostro corpo quindi i cibi confezionati quelli veloci quelli già pronti le cose già precotte assolutamente non dico di evitarle perché mi rendo conto che viviamo in una società che va di corsa però limitarli il più possibile e il cibo giustamente come diceva Davide più è semplice ma partendo dalla produzione dal terreno dove si produce quel cibo fino ad arrivare alla fine della della catena produttiva deve essere il meno trattato possibile e meno chimico possibile anche non deve avere conservanti di di sorta assolutamente no e quindi non c'è bisogno di super cibo super food particolarmente pensato per la prestazione per andare più forte no vabbè se calcoli che che un super food può essere considerata anche una noce o un'insalata valeriana tanta roba come si dice in quel senso là sì ma è che oggi sotto l'etichetta super food vengono messe un po' un po' di tante cose anche il nome del marketing no però il concetto l'abbiamo passato e chiuderei con questo bel commento che è arrivato di nostro amico Beppe Todisco che scrive ciao Beppe Beppe è uno già dei nostri esatto e scrive seguo il metodo B-Cord tre mesi e mi sento in gran forma rispetto a prima i miei allenamenti intensi in bici sono portati a termine con grandi risultati grazie di tutto e che dire grazie a te Beppe grazie Beppe guarda non ti dico che ogni volta che sento leggo vedo una testimonianza mi viene la pelle d'occa e mi viene una sorta di magone perché è veramente in questo mondo non semplice essere contribuire ad aiutare a migliorare lo stile di vita la vita la salute di una persona è quello che mi dà la forza e la benzina di continuare ad andare avanti migliorarmi e credere in quello che faccio quindi grazie Beppe Beppe perché adesso ci ha commentato lui ma grazie anche a tutti quelli che già seguono questo metodo e hanno ottenuto dei buoni risultati benissimo e ringraziamo tutti gli amici che l'hanno seguito e quelli che vorranno entrare a far parte di questa filosofia mi piace sottolineare questa parola e vi ho messo qui il commento fissato in alto dove trovate appunto questa offerta speciale che scade la settimana prossima per cui se vi piace la cosa se avete intuito l'importanza e la bontà di chi c'è dietro questo progetto la competenza l'esperienza diretta e quant'altro approfittate insomma se avete poi domande di qualsiasi tipo io e anche Francesco siamo disponibili per cui i nostri canali li conoscete o qui nei commenti oppure Cassi Canali di ciclismo passione e trend evolution Francesco che dire è stato un piacere piacere mio posso dire solo un'ultima cosa che se mi vogliono seguire ci sono due canali uno su facebook e uno su instagram che sono semplicemente bcore concept quindi potete seguire tutte le novità che ci sono su questi due canali oppure andare a curiosare anche il sito www.bcoreconcept.com vi ringrazio vi ringrazio per l'attenzione mi scuso ancora per il ritardo problemi tecnici però ce l'abbiamo fatta ce l'abbiamo fatta vedo l'ora che Davide mi riproponga di fare un'altra intervista perché le adoro e mi piace essere in contatto con voi in modo diretto fateci sapere come sta andando con il metodo mi raccomando vogliamo avere i risultati tangibili allora io ti prendo in parola perché piace anche a me intervistarti ogni volta teniamo fuori qualcosa anche io imparo qualcosa di nuovo quindi dai la teniamo in calda a breve penseremo a fare una nuova intervista magari su qualcosa di più specifico sì 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 per ora dai ragazzi grazie a tutti è stato un piacere e ci sentiamo presto in questi canali ciao Francesco grazie ancora ciao Davide grazie a te ciao a tutti a presto buon pranzo ciao grazie